Il caos e il disordine stanno solo nella testa dell'opposizione. Queste le parole del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in risposta ai sindaci, secondo cui le ordinanze del Governatore fanno confusione e non si allineano al Governo nazionale. Grazie all'andamento epidemiologico, al superamento della zona rossa in area vestina, alla minore pressione negli ospedali, i sindaci stessi il 30 aprile, ha dichiarato Marsilio, hanno chiesto al Presidente di revocare le misure più restrittive, cosa che il Presidente, ha concluso il Governatore, ha fatto immediatamente. Ma non si tratta di un Tana Libera Tutti, sottolinea Marsilio. Insomma, gli esponenti dei diversi schieramenti politici si rimbalzano l'accusa di andare contro il Governo, contro la Regione, a seconda dei casi, solamente per fare propaganda. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, si fa beffa dell'ordinanza regionale 52, in cui Marsilio ha specificato quali sono gli sport consentiti. Non ho potuto fare a meno veramente di attaccare una gestione da parte della Regione che fa acqua da tutte le parti. Fa acqua, ma ci consente con l'ordinanza 52, Paola, di giocare a badminton. Dal 4 maggio voglio comunicare ufficialmente a tutti i cittadini francavillesi, a tutti coloro che ci seguono, dal 4 maggio potremo tornare a giocare a badminton. Questo è scritto nell'ordinanza 52 di Marsilio e quindi mi raccomando, potete chiederci anche con delle domande che noi pubblicheremo a video, quali sono i vestiti adatti per giocare a badminton, quali sono gli strumenti per giocare a badminton e soprattutto perché Marsilio si occupa del badminton e non si occupa invece dei parrucchieri chiusi e delle attività che stanno in sofferenza. Evidentemente era più importante andare e mandare qualcuno con il suo cavallo fuori città per recarsi presso un campo di badminton e giocare a badminton.